Buon sabato pomeriggio in compagnia di Alessandro D'Ambrosio di Live Sport Academy in diretta dal Palatorrino per voi oggi il ritorno dei playoff dei quarti di finale di Serie A2 di Calcio 5 a sfidarsi Todis, Lido di Ostia, squadra di casa e Lazio Calcio a 5 dopo il 3 a 1 dell'andata in favore del Todis. Ecco il fischio d'inizio, primo pallone mosso dalla Lazio che allora gestisce il primo possesso, squadra Bianco Celeste che deve provare a ribaltare l'esito dell'andata, subito fischiato un fallo in apertura. In un paio di occasioni ha provato ad impensierire Di Ponto che però non si è lasciato sorprendere, adesso il rinvio, Cimanghigno anticipato, pallone al centro per Nicao, attenzione ancora la Lazio, Chilelli, Chilelli si gira, Di Ponto neutralizza. Con una parata a mano aperta a negare la via del gol del vantaggio per la Lazio. Tutto qui al pallatorrino, a rimonte, molto spesso l'ingresso in campo non è stato dei migliori per la squadra che oggi gioca in casa. Jefferson, Esposito, ancora Jefferson centralmente da Cimanghigno, sponda per Esposito, calcio al numero tre buona la combinazione Todis, pallone che però non trova i pali difesi da Terenzi che guarda scorrere sul fondo. La Lazio riparte direttamente da Terenzi, Mazzoni cambia sul lato destro del campo, Cimanghigno a riconquistare, attenzione a Lara sulla destra libero, Lara dribbla Terenzi, peso Lara. Dovrebbe essere fuori aria l'intervento, intanto è ammonito Terenzi, estremo difensore della Lazio, qualche dubbio in questa circostanza ancora a terra Lara. L'intervento dovrebbe essere stato fuori dall'aria di rigore. E' arrivato il fischio, Jefferson tocca per Lara, si sblocca la partita a 11.47 dalla sirena del primo tempo, su calcio di punizione il tocco di Jefferson, il gol di Lara a portare in vantaggio i padroni di casa, 1-0. Sbaglia di rigore, Lupi, Dominguez, sposta la sfera con una magia, Dominguez dal lago di Evia e poi palla allontanata fino dalle parti di Terenzi. Capponi, Lupi, Dominguez, ancora la danza del numero 8 che manda Lutta in tutt'altra direzione, poi tentativo contro l'esterno del palo per Dominguez. Ricordiamo, un miglior marcatore stagionale bianco-celeste. Palla che è terminata contro l'esterno del palo e poi quindi in calcio d'angolo, è sempre Di Ponto a chiudere la porta sul calcio d'angolo battuto da Lupi e sul tentativo di Petzin. A porta sguarnita, botta sicura, Lupi, però gli chiude la possibilità, rimpallando subito la sua conclusione. Jefferson, Lara, che affida nuovamente a Di Ponto. Errore non da lui per Di Ponto, poi attenzione ancora Lazio, Di Ponto a parare, l'intervento di Barra forse con un braccio non secondo gli arbitri. Si ha rischiato enormemente qui Lido, che però si è salvato. Gerson, poi ancora Jefferson, poi ancora Chinelli e poi Gerson a respingere il tentativo. Un minuto e quaranta, ancora all'intervallo. Nicao, pallone appoggiato da Dominguez, palla dentro e Nicao contro il palo, stava sfiorando il gol proprio lui, che aveva segnato all'andata sempre il gol dell'1-1. Il palo, però, aiuta il Lido. An esposito, era bella la combinazione, l'azione di ripartenza del Lido. Però è sposito, è andato fuori misura. Non bisogna commettere fallo, perché sono già stati commessi cinque. Ed ecco il quinto, il sesto fallo commesso. E allora è tiro libero per il fallo commesso da Dallago. E allora, eccolo il fischio, a un minuto esatto dall'intervallo, il tiro libero di Chinelli. L'aveva toccata Gattarelli, la palla però passa e termina in rete. 1-1. Scalambretti per Terenzi. Eccola la sirena dell'intervallo. All'ara ha risposto Chinelli. Il punteggio è di 1-1 allo scadere dei primi 20 minuti di gioco. Interacuina, vincente. Nelle semifinali di play-off di Serie A2. Finalissima in programma il 3 giugno. Intanto Chinelli deve duellare con Jefferson. Chinelli si gira di punto in spaccata, poi la palla sulla traversa. Sfortunatissima la Lazio, ma si salva ancora di punto. Campo di gioco. Il messa sulla tre quarti. Capponi, propizia per Lupi. Apre su Dominguez. Le finte del numero 8 che ridanza con la spera tra i piedi. Dominguez. Lara. Quindi concede la via del cross. Ancora Dominguez. Tocco morbido. Prova a coordinarsi. Mazzoni, poi esterno della rete, nel secondo tentativo. Si salva ancora il Todis. Si è riportato avanti di tre misure. L'Active Network. 5 a 2. Intanto attenzione a Cimanghigno. Cimanghigno! Ha provato ad accendersi Cimanghigno come un fulmine a Celsereno. Ha quasi abbattuto il palo difeso da Renzi. Barra. Si gira il numero 21. Pallone appoggiato dalle parti di Jetson. In verticale prova la traccia. Che è però Chilelli in quella zona di campo che non lascia passare. Scambia con Lupi. Chilelli! Ha frustato il pallone con il mancino. Ha preso anche questa di Ponto. E Chilelli si lamenta giustamente perché il suo tiro era diretto proprio all'angolino. Ma di Ponto ha neutralizzato il rinvio per Barra. Chiuso. Lara con il petto. In qualche modo stoppa il pallone ma ne approfitta la Lazio. Caponi. Lupi ancora per Chilelli con il tacco di Ponto. Fondo. Di Ponto. Il rinvio. Pallone agganciato da Barra. Si gira Barra. Alta la sua conclusione. Allora Tarenzi. Trova a passare sulla destra Dominguez. Jefferson. Mette dentro. Barra. Poi Tarenzi schiaffeggia via. Il fisico. Anche se la Lazio protesta. Lara. Barra. Cambia il gioco. Jetson. Jetson. È passato. Jetson. Forse è toccato da dietro. Non secondo gli arbitri. Allora Tarenzi. Tarenzi calcio. Si è inventato un gol infredibile. Tarenzi riapre così il discorso qualificazione. Lo ha pescato dal cilindro. Ha tirato fuori un coniglio. È 2-1 Lazio. Ecco il fischio. Allora Jefferson sul punto di battuta. Mette dentro. Ha provato Jetson con il tacco poi steso. Calcio di rigore. Calcio di rigore in favore del Todis. Fallo subito da Jetson. Atterrato all'interno dell'area di rigore. È il quinto fallo commesso da Lazio. Ed è calcio di rigore per il Todis. La danza di Tarenzi che vuole distrarre il miglior realizzatore del Todis Lido di Ossia. Cimanghigno colpisce Tarenzi. L'azione non è finita. Poi Jefferson sul fondo. La danza di Tarenzi. Luca Tarenzi assoluto. Il primo protagonista di questa sfida. Rimessa laterale. Pallone affidato a Dominguez. Chilelli ancora da Dominguez. Eccolo il 3-1 Lazio. E in questo momento è parità assoluta con Dominguez che trova il ventesimo gol stagionale. 3-1 incredibile al pala Torrino. Che vorrebbe dire altri 10 minuti di gioco. Cimanghigno si guarda intorno. Poi affida il pallone dietro ancora da Jefferson. Jefferson è passato Jefferson. E' passato Jefferson. Pallone dentro. Jefferson non esulta. Il gol dell'ex in questo momento vuol dire 3-2 Tadis. 3-2 per la Lazio. Ma vuol dire qualificazione Tadis a 1 minuto e 42. Dallo scadere non esulta Jefferson per rispetto. Un secondo sul fenomeno. si colubre futsal al momento. Le due squadre sono ai supplementari ma conduce la Team Network. Allora un saluto da Alessandro D'Ambrosio di Live Sport Academy per Calcio 5 Live. Grazie per aver seguito questa bellissima partita con noi. ai nostri microfoni Edoardo Di Ponto. Al termine della partita tra Tadis, Lido di Ostia e Lazio perdete per 2-3 in casa. Prima sconfitta della stagione, anzi prima non vittoria della stagione qui al Pallatorrino. Alla fine però la qualificazione è centrata. La semifinale la giocherete contro la vincente. La sfida che si gioca adesso al Palacruz. Com'è andata la partita oggi? È stata una partita complicata. Nel senso che comunque loro giustamente sono di qui per fare risultato. È stata difficile all'andata. Siamo stati bravi poi a sfruttare il vantaggio dell'andata. Vincendo 3-1 quindi avendo due gol di vantaggio. E questa sconfitta fa un po' meno male. Però insomma viviamo con un po' di stanchezza. Cominciamo ad andare verso la fine. Quindi potrebbe essere anche un pochettino fisiologico. Oggi a mio avviso non è una partita brillante come al solito. Di solito il Lido ci ha abituato a prestazioni di ben più alto livello. Cosa è mancato? Cosa è mancato? È mancato probabilmente un altro gol che poteva portare un po' più di tranquillità. E poi ti ripeto probabilmente cominciamo a accusare un pochino di stanchezza da tutta la stagione. Oggi invece assoluto protagonista. L'altro estremo difensore non normalmente sei tu che ti prendi i nostri complimenti. Oggi invece si riprende il tuo collega. Perché Luca Tarenzi non solo ha parato il calcio di rigore, ha anche trovato il gol che ha riaperto la partita. Non te l'aspettavi tirasse da lì? No, no. Il problema è che mi si è bloccato il piede. Quindi succede. È come se sbagliano i rigori, si sbagliano i libri. Può succedere anche che succedano questi imprevisti. Ma va bene così. Comunque le tue parate ci sono sempre state. Il tuo contributo nella qualificazione di oggi è stato sempre evidente. Un paio di parate sicuramente da Highlights. Quindi ancora congratulazioni a Edoardo. Congratulazioni ovviamente a tutta quanta la squadra, anche al mister. E appuntamento allora settimana prossima quando si giocheranno le semifinali. Grazie. Grazie.